Raccontare cosa è stato Mojo Con in due minuti è praticamente impossibile, quindi accontentatevi di alcune pillole un po' in ordine sparse. La conferenza si è aperta con la conferma che dal 2020 la connessione 5G, fondamentale sia per i giornalisti sia per il pubblico, sarà disponibile praticamente in tutta Europa. Poi c'è stato uno scontro epico tra Michael Rosenblum e papà del mobile giornalismo statunitense, che adesso vedete inquadrato, e la signora a suo fianco che si chiama Samantha Berry e lavora per CNN. Michael ha sostenuto che il giornalismo si è suicidato per colpa degli editori. A portare una ventata di ottimismo ci ha pensato Mike Castellucci, un italo-americano di origini calabresi, che è professore di giornalismo al Michigan State University, che ha mostrato alcune sue traduzioni, alcuni suoi format, che hanno dimostrato come il mobile giornalismo possa diventare uno strumento molto molto interessante anche per realizzare dei documentari, dei racconti lunghi. Per tre giorni i circa 600 partecipanti hanno lavorato incessantemente, persino durante la pausa pranzo. Tra questi 600 gli italiani fossero solamente quattro e mancassero completamente i rappresentanti della televisione di Stato e delle principali rete. Quello che vedete inquadrato qui invece è Glenn Mark, il lidiatore della manifestazione, intervistato da Francesco Facchini, che è stato il mio compagno di viaggio e il mio mentore in questa avventura irlandese, dalla quale sono tornato pieno di entusiasmo perché ho capito che la scelta di prodursi da soli dei contenuti può essere veramente la carta vincente per chi ha ancora voglia di fare il giornalista, forse l'unica oggi praticabile per un freelance. Attraversare ilublice Grazie a tutti